L'incontro con Boaz e Belluogo durante l'inverno del 2006. La stessa notte, dopo più di vent'anni, ho avuto un terribile flashback del Libano. Anzi, non del Libano, ma di Beirut-Ovest. Anzi, non di Beirut-Ovest, ma delle notti del massacro nei campi profughi di Sabra e Shatila. Anzi, non del Libano. Anzi, non del Libano. Anzi, non del Libano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.